la possibilità a Milano di farlo a questo punto, molto importante 23-19, serve fortissimo Mar, dopo Kovacevic che prova a servire Pinali, Mar in difesa Piano prova a chiudere il punto, niente da fare, Milano si riposiziona, si cambia obiettivo si vede Ishikawa, palla morbida, salvata, Pinali deve attaccare un po' fuori equilibrio, Murato ma Kovacec la tiene viva, nuova occasione per Pinali, Ishikawa difende, Mar riesce a salvarla bellissimo Mar, bravo, Ishikawa sotto il muro, deve regalare la palla a Ravenna che però sbaglia di nuovo, regala ancora Milano che prova a chiuderla sempre con Ishikawa Kovacec tiene anche questa, poi con una mano Batak tirando giù la panchina, riesce a salvarla ancora Ishikawa, Batak ancora salvata di Lepke, free ball regalata a Milano, che scambio infinito adesso Sbertoli per la pipe di Steven, Mar, ma che scambio incredibile, applausi a scena aperta per tutte le due squadre, tutti in piedi per festeggiare, per applaudire questa splendida palla a volo, tutti in piedi davvero, abbiamo visto uno scambio incredibile Giorgio mamma mia, incredibile, proprio incredibile, questo sicuramente lo vedremo negli highlights perché è una cosa veramente l'acquanto della settimana